Questo aspirapolvere Samsung senza sacco è dotato di un sistema di aspirazione ciclotronico chiamato Cyclone Force, che offre una forza aspirante estrema da ben 220 Watt. Nonostante la potenza, i consumi sono ridotti. La tripla classe A garantisce efficienza energetica, efficacia nella pulizia e qualità di filtrazione dell'aria. Il design curato e dalle linee morbide dell'esclusivo Air Cushion Protector permette la massima praticità di utilizzo, nonché la sicurezza di non lasciare graffi o ammaccature su mobili, pareti e pavimenti. È pensato per chi ha bisogno di un aspirapolvere pratico ed efficiente, semplice nell'utilizzo, potente nell'aspirazione, ma attento ai consumi energetici. Un altro importantissimo sistema di cui è dotato è detto Igenic Micro Dustback, ovvero un sistema di filtrazione igienica che trattiene allergeni e batteri. Così, oltre ad uno spazio pulito, avrete anche un ambiente sicuro per la salute della vostra famiglia.